Si chiama Mi Illumino di Meno e questo prende spunto da una trasmissione storica di Caterpillar. Ci sarà un orario preciso nel quale la città di Pescara spegnerà dei monumenti simbolici, perché? La giornata è proprio dedicata a risparmio energetico e sicuramente noi abbiamo ederito immediatamente. Sarà spenta la nave di Cascella e saranno spente le luci del comune per tutto il tempo della durata della trasmissione, quindi dalle ore 18 fino alle ore 19.30. Sarà spenta in maniera particolare anche la luce del Museo Cascella per un tempo più ridotto, perché ci sarà una visita molto affascinante, perché si svolgerà l'ume di candela e poi avremo la possibilità di far vedere quindi con una luce diversa delle opere bellissime e varializzarle così. Qual è il messaggio che si dà in questo caso alla cittadinanza? Che questa amministrazione intende investire molto e lo sta facendo anche sull'illuminotecnica della città. Ci stiamo muovendo su tanti progetti, compreso quello di Horizon. Abbiamo fatto delle riunioni con le politiche comunitarie per aderire ad un progetto importante, in questo senso, per Fontanelle Smart e quindi per la centrale di energia a Fontanelle.